L'insieme filati nasce nel 1983 decidendo di puntare in alto con la creazione di prodotti utilizzati, ancora oggi, dai più importanti brand della moda. Il punto di forza della produzione di questa azienda, con sede a Montemurlo e a Narnali, è la produzione di cashmere aumentata fortemente negli ultimi quattro anni. Una crescita dovuta all'acquisto di macchinari d'avanguardia. Nel corso di quest'anno siamo arrivati a un piedi di lista di quasi 900 clienti da seguire, un'azienda che è cresciuta in tutto e per tutto e questo ha fatto sì che noi anche nel 2023, al contrario di quella che è stata la tendenza negli altri nostri colleghi che hanno avuto quasi tutta una flessione, noi abbiamo registrato un ulteriore aumento del 10-15% del fatturato su quello del 2022 che già era un'ottima crescita. L'insieme filati che conta 40 dipendenti e ha un fatturato di 25 milioni di euro ha vinto la quattordicesima edizione del premio Santo Stefano per le idee innovative e sostenibili concretizzate attraverso l'installazione di impianti fotovoltaici che rendono la produzione quasi autosufficiente da un punto di vista energetico. Inoltre l'azienda è in grado di realizzare filati con l'ane RWS, Responsible Wool Standard, con dichiarazioni affidabili sull'approvvigionamento della lana. Abbiamo la fortuna e la possibilità di realizzare internamente tutte quelle che sono le varie lavorazioni e vari cicli produttivi e questo è un aspetto che oggi ancora di più è fondamentale proprio per garantire una qualità, un controllo e un'omogeneità di prodotto che i nostri clienti, i nostri brand richiedano sempre di più ogni giorno. La qualità significa anche durata nel tempo, significa anche un risparmio da un punto di vista sostenibile, insomma una sostenibilità dovuta alla qualità del capo finale stesso.